oggi proviamo a fare il pane in casa con i componenti che ora illustreremo farina di tipo 0 tutto biologico 400 grammi farina di tipo integrale 200 grammi farina tipo manitoba 400 grammi 100 grammi di semi di girasole 10 12 grammi di sale 40 grammi di olio una bustina di zucchero per far lievitare il lievito e 25 grammi di lievito di birra questi sono tutti i componenti che utilizzeremo per fare un chilo di pane oggi ci sono anche 600 millilitri di acqua sciogliamo il lievito nell'acqua leggermente tiepida ora le stiamo mescolando poi ci aggiungeremo il sale l'olio e anche i semi di girasole 100 grammi di semi di girasole via via grammi di piacere i semi di girasole costruziamo i semi di girasole e in più po versiamo tutto sulla tavola per poterlo poi lavorare con calma. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.